Non giriamoci attorno, l'estate è tecnicamente finita, tutto tornerà alla normalità. Ne parliamo con il docente dell'università della fine dell'estate specializzato in buoni propositi. Sono i soliti buoni propositi di settembre, una dieta equilibrata e sana, iscriversi in palestra ed eliminare il fumo e l'alcol. Buoni propositi che verranno messi in pratica? Assolutamente no, perché da fine settembre non si capirà più niente. Vendemmie, sagre, halloween, il ponte dei morti, l'immacolata, la vigilia di natale, natale, santo stefano, capodanno, epifania, san valentino, carnevale, pasqua, pasquetta, 25 aprile, primo maggio. Siamo ritornati a giugno che è nata vota estate e tu fisicamente stai nata vota una merda. Da questa ormai passata estate è veramente tutto, è stato un piacere di pazzi, ci acchiappiamo presto. Grazie a tutti.